Siamo in compagnia di Claudia Sterzi, questa è l'intervista di leggere euforia, così potremmo chiamarla, con un ritorno sugli schermi che attendiamo con ansia di leggere euforia. Intervistiamo Claudia, la sentiamo perché? Perché c'è un evento antiproibizionista importante che si sta per realizzare, l'otto ci sarà, una marcia antiproibizionista organizzata da alcuni gruppi antiproibizionisti, che in qualche modo potremmo definire storici, poi Claudia ci dirà meglio. Ecco tu, Claudia, che ne pensi? È un appuntamento importante? Possono essere prospettive? Perché si sta prendendo un pochino un certo dibattito, soprattutto per quanto riguarda la marijuana. Certo, è importante, sì, è vero come dici te che si sta prendendo un bel dibattito anche in Italia a seguito di tutto quello che si è mosso poi nel resto del mondo, che tante volte vi ho raccontato, l'Uruguay che ha legalizzato consumo, vendita e produzione, Colorado e Washington che hanno passato con i referendum l'altro anno e che adesso stanno rendendo effettivi questi referendum per una legalizzazione anche lì di consumo e anche di vendita in Colorado. Anche in Italia finalmente si è riaperto il dibattito, si è riaperto il dibattito, sono state presentate diverse proposte di legge, ce n'è in particolare una dell'onorevole Daniele Farina di SEL che ha già passato tutto il vaglio della Commissione e quindi diciamo che è pronta per essere votata e discussa in Parlamento. Ci sono altre proposte di legge, una di Manconi, una di Giacchetti e Gozzi, ultimamente anche Civati ne ha prodotto un'altra, poi ho visto che sul blog di Verpe Grillo c'è diciamo una consultazione online perché loro dicono andiamo a presentare, in realtà ancora non hanno presentato nulla, però sul blog è attivo da circa due settimane più o meno una consultazione online su una bozza di legge, perché non è proprio una legge, comunque è una bozza di legge e quindi la discussione finalmente diciamo si è aperta e anche sui giornali, sui media si è un attimo mosso un po' questo argomento che in Italia era veramente tenuto soffocato e chiuso. Il 19 gennaio c'è stata un'assemblea a Forte Penestino dove si sono incontrati diversi gruppi, appunto sono i gruppi storici dell'antipredizionismo storico italiano, certamente ci sono anche i radicali che hanno un primato storico in questo campo, però diciamo insieme alle azioni compiute dai radicali nel corso degli anni, fino, oggi vi ricordo la pannella, fino dagli anni 60, ci sono anche questi gruppi antipredizionisti non radicali che comunque nel corso degli anni hanno compiuto numerose azioni, certamente diverse da quelle radicali, ma diciamo né meglio né peggio comunque iniziative, iniziative importanti, anche compresa la Miglio Mariana Marche che comunque a livello di massa ha sicuramente un richiamo e anche una ridondanza molto forte perché si tratta di che coinvolge decine di migliaia se non centinaia di migliaia di ragazzi. E poi altre cose sono state fatte nel corso degli anni, anche da loro, hanno portato in piazza le piantine, hanno fumato nelle piazze, insomma, gruppi che si sono mossi e sono attivi nel campo dell'antipredizionismo e che sarebbero poi quelli che negli anni 2000 era il gruppo confini zero, così detto. Dopo tante divisioni e tanti anni di litigi fra di loro e vari tipi di conflitti, finalmente si sono riuniti e questa è una buonissima cosa, per carità, perché veramente quello che è il difetto del mondo antipredizionista italiano, molto probabilmente anche in altre parti del mondo, però in Italia sicuramente, perché si sa proprio il fatto che gli antipredizionisti sono divisi fra di loro in tanti gruppuscoli, chi vuole la marioana ma non l'evorina legalizzata, chi vorrebbe una produzione non controllata dallo Stato, chi non ci vuole pagare le tasse, chi lavora le tasse, cioè su tutti questi particolari poi nel corso degli anni c'è sempre stato un grandissimo conflitto e quindi non sono mai riusciti a lavorare insieme. Finalmente il 19 gennaio queste forze antipredizioniste si sono riunite a Forte Penestino e hanno deciso una grande manifestazione comune tutti insieme e io sono stata molto felice di questo, anche se non mi hanno invitato devo dire a Forte Penestino, questo un po' mi ha infastidito, sì, infastidito certamente, perché comunque lì a Forte Penestino c'erano anche tanti compagni che con me hanno lavorato nel corso di questi ultimi anni, con i quali abbiamo realizzato anche interviste anche per Liberi TV, abbiamo organizzato tante manifestazioni e iniziative insieme e quindi questo fatto di non essere per niente coinvolta ma lì per lì un po' messo in sospetto. Comunque una volta che ho saputo che c'era stata questa riunione e alcune persone mi hanno anche inoltrati di viso conto esatto di quello che era successo, di che si era parlato e al momento del 19 gennaio non c'era stato nessun accenno su chi o non dovesse comparire come partecipante e il dibattito non era nemmeno cominciato, c'era soltanto discussione su come organizzare questa manifestazione se con i carri oppure no, se come una street parade oppure no, cioè c'era una discussione su come un attimo muoversi perché forse la manifestazione, fra l'altro c'è da dire che è perché l'8 febbraio, perché l'11 o il 12 febbraio, forse il 12 comunque in quei giorni lì c'è un'importante sentenza della Corte Costituzionale che si deve pronunciare su due, ora non mi ricordo il termine tecnico, comunque su due eccezioni di legittimità poste, una mi sembra dalla Corte, va bene, non vorrei sbagliare di rescemenze comunque sono due questioni di illegittimità costituzionale una riguarda il fatto che il decreto legge Fini Giovanardi fu introdotto all'interno del decreto Olimpiadi che riguardava la sicurezza e fu forzatamente introdotto nel senso che non era pertinente al resto delle norme contenute in quel decreto e l'altra invece riguarda il fatto che equiparando droghe leggeri e pesanti si crea una sproporzione fra le pericolosità delle condotte e le pene che vengono combinate e quindi su questi due aspetti si pronuncerà la Corte Costituzionale il 12 infatti è previsto anche un sit-in poi davanti alla Corte Costituzionale quella mattina preceduto da questa grande manifestazione nazionale dell'8 febbraio a sua volta è preceduta da una serie di eventi locali che infatti sono stati realizzati in gran parte d'Italia a Milano, a Palermo, ma in tutta Italia sono stati organizzati diversi tipi di incontri, di dibattiti anche al cannapeo educale di Parma, mi sembra, anche a Parma, cioè in tantissimi posti d'Italia o a Pisa non mi ricordo tutti ma insomma ci sono decine di eventi in questi giorni che appunto sono di percorso per arrivare la manifestazione dell'8 febbraio. Dopodiché che è successo? È successo che io a questo punto naturalmente come ARA ho dato la mia adesione per mail, ho dato la mia adesione attraverso il format del sito cioè in tutti i modi ho voluto essere presente perché per me era una cosa che andavo dicendo anche a loro ormai da anni che era molto importante che si immerciasse tutti uniti e come da metodo radicale si fa alleanza con tutti su un obiettivo comune anche se poi magari non ci va per niente d'accordo su altri aspetti della vita politica o delle idee che puoi avere per esempio questa è una manifestazione che è unicamente specificamente sulla cannapea e sulle droghe leggere mentre naturalmente l'antipribizionismo radicale riguarda tutte le droghe quindi già su questo per esempio è una cosa che ci divide in teoria però io seguendo il principio radicale proprio di fare alleanze con tutti su obiettivi comuni ero interessata a partecipare e aderire a figurare anche fra le persone che aderivano nell'elenco ufficiale inizialmente mi è stato detto che non era possibile registrare la mia adesione perché non erano ammesse le forze politiche e questo è stato il loro discorso al che di fronte a questo naturalmente io ho detto benissimo io in fondo è vero che un'associazione porta il numero radicale quindi un'associazione che ha una connotazione politica gli ho anche detto non voglio venire con le bandiere non mi interessa affatto per fare un'occasione di propaganda mi piaceva semplicemente per tutto il lavoro che ho svolto in questi anni anche insieme a voi di essere presente però fino a che la motivazione era quella che non volevano forze politiche ci si poteva anche stare dopodiché ho visto crescere nelle adesioni il numero di sigle politiche perché dopo tutti i centri sociali e tutte le varie realtà sociali appunto hanno cominciato a crescere i nomi degli aderenti politici quindi di SEL, di Rifondazione Comunista che adesso c'è un'altra sigla che non mi ricordo scusate, i miei suoi particolari sono sempre carente di forze politiche di estrema sinistra assessori, consiglieri regionali cioè persone connotate molto chiaramente in maniera politica allora a questo punto ho scritto un post su Facebook proprio sulla pagina dell'evento ho fatto una telefonata a Mephisto che è l'organizzatore della Miglio Mariana March ho molto insistito, mi sono molto difesa fortemente dicendogli che non era assolutamente possibile questa esclusione che non mi venisse a raccontare che era perché non volevano forze politiche perché l'elenco degli aderenti era pieno di sigle politiche a questo punto Mephisto mi ha detto sì capisco le tue ragioni in effetti bisognerebbe discuterne e gli ho detto fammi chiamare da chi ha deciso che io non devo comparire in questa cosa perché voglio parlarci poi per carità ognuno rimane nella sua idea però voglio parlarci naturalmente non mi ha chiamato nessuno perché queste persone secondo me sono anche poche alla fine saranno due o tre persone all'interno del movimento che non volevano la partecipazione dei radicali e si sono comportati in maniera vigliacca perché non sono comparsi né con il nome né col cognome io non so nemmeno chi sono però quello che hanno fatto è stato emettere un comunicato a firma assemblea 19 gennaio che è uscito in realtà il 30 di gennaio non è uscito veramente in occasione dell'assemblea nel quale appunto facevano tutto un delivio sul fatto che i radicali avevano posizioni diverse dalle loro riguardo appunto alla Palestina che sono dei sionisti dei fascisti ci hanno messo insieme alle forze di destra che io volevo in qualche modo partecipare dovevo essere come un sì il cavallo di troia come una scusa insomma per portare poi le mie bandiere all'interno del movimento cosa che io assolutamente non ci pensavo nemmeno ed è uscito questo comunicato appunto in cui si giustifica la non partecipazione la non naturalmente tutti mi hanno detto te come persona ci mancherebbe altro puoi venire sei benvenuta in diverse associazioni a partire da Fruid all'Ascia ma anche tante altre che ora non mi vengono in mente i nomi però io ho ricevuto mail sia pubbliche che private su Facebook pubbliche private per mail che mi invitavano a partecipare insieme a loro che mi dicevano di andare assolutamente che ero la benvenuta però a me diciamo sì mi interessava andarci e esserci per carità figuriamoci però a mente vi sarà proprio risultato in questo caso semplicemente perché questo avrebbe legittimato e riconosciuto un lavoro che io sto svolgendo da anni per questa ragione e questo è stato un po' il percorso diciamo iniziale di questo dopodiché che è successo ancora ah eh sì certo è successo poi che Rita Bernardini insieme a Pannella a Paolo Izzo a Maggi oggi hanno convocato una conferenza stampa nella quale hanno lamentato la loro esclusione in quanto radicali e questo è stato un po' la loro presa di posizione dicendo noi andremo lo stesso con i cartelli con scritto non desiderata ora in effetti non è vero niente perché Rita non è assolutamente non desiderata da questa manifestazione tanto meno Marco Pannella ci mancherebbe quello che loro hanno rifiutato non è certo la nostra partecipazione quello che loro hanno rifiutato è di mettere le sigle nel fra i partecipanti e fra gli aderenti nel sito ufficiale è stato un po' un po' questo e questo è un po' un racconto diciamo non so se vuoi chiedermi qualche altro particolare questo è un po' un racconto generico per vedere un po' come comunque io fra l'altro la mia decisione a un certo punto è stata che io non sarei andata a questa manifestazione perché è veramente troppo politicizzata così cioè ci sono delle forze politiche che intendono mettere il loro cappellino sulla lotta antiproibizionista delle persone più che delle forze perché poi le basi sono anche ignare la maggior parte di quelli che partecipano io leggo su Facebook un po' non vogliono assolutamente che la politica sia proprio in nessun modo della loro forza e delle loro iniziative e quindi dicono anche noi assolutamente non permetteremo che parli uno più di un altro in realtà invece succederà che poi nelle giornali nelle interviste compaiono alcune persone poi vedremo quali sono compariranno alcune persone e avranno un po' sfruttato il lavoro di tanti che nel corso degli anni si sono veramente sbattuti per questa lotta sì io volevo un attimo approfondire questa questione della presunta apoliticità o apartiticità perché poi alla fine anche se in questo comunicato che come tu hai detto non è firmato non sono individuabili persone o perlomeno sigle che possano poi far capire a rappresentanti o incarichi eccetera in definitiva poi invece è tutta quanta ben connotata verso sinistra queste partecipazioni certo estremo a sinistra quella che a volte si definisce anche sinistra radicale poi il buffo è che fra l'altro a livello locale per esempio a Milano domenica scorsa hanno volantinato e parlato insieme Daniele Farina con Marco Cappato quindi un SEL che è fra le maggiori sigle presenti non tanto nel comunicato ma negli aderenti della manifestazione e Cappato che è un radicale per quanto se non sbaglio ha letto proprio come radicale nel comune di Milano no proprio non nelle liste PD proprio con delle liste radicali comunque radicale direi universalmente riconosciuto come radicale e lì domenica hanno anche invitato le persone ad aderire alla manifestazione del lotto pubblicamente poi lunedì mattina si sono svegliati Marco Cappato e Lorenzo Di Parini ci hanno comunicato che appunto avevano saputo di questo comunicato con tutti i radicali però lo sapevano benissimo anche domenica però la domenica ha fatto stare che sono stati accettati si sono accettati vicendevolmente come dovrebbe essere peraltro e hanno lavorato insieme volantinati insieme hanno fatto una conferenza a stampa insieme mi hanno raccontato Donatella Corlea anche a Palermo hanno fatto delle iniziative insieme le basi di SEL insieme a loro io proprio oggi su Facebook una signora Selenia Ragni che è dirigente di una sezione locale di SEL mi ha scritto che lei è assolutamente contraria a questa esclusione non la concepisce ma in tanti comunque hanno scritto anche pubblicamente che non che non si vendevano conto di come fosse possibile che Lara o che comunque i radicali Marco Pannella Vita Bernardini eccetera fossero esclusi da ovvero la partecipazione in chiave provocatoria con i cartelli che ho scritto indesiderata sinceramente non la capisco perché non siamo affatto indesiderati come persone la nostra partecipazione non è affatto impedita e non capisco molto bene ti dico per me andare a tirare la volata a SEL andando lì sinceramente non c'evo più voglia cioè visto che è così politicizzata e che io non posso aderire in quanto forza politica me ne sto a casa e mi faccio un po' mi faccio un po' gli affari miei e non partecipo peraltro tornando un attimo a quel comunicato ha anche dei toni insomma di un tenore politico a volte anche un po' delirante perché si dice che appunto non si accetta come diciamo partecipanti persone che non hanno che non condividono la stessa visione del mondo cioè delle cose veramente un po' ma in questo loro rispondono proprio a me che sono anni che vado dicendo di tutte le assemblee peraltro accettatissima perché io sono andato a parlare a Forte Penestino alle loro assemblee alle loro rinoni ospitate in casa loro cioè sono stata con loro diviso con loro serate e giornate e non non c'è mai stato nessun problema e sono anni che gli vado dicendo che appunto il metodo radicale che secondo me è giusto e pertinente è quello di lavorare insieme su un obiettivo comune anche se poi con loro singolarmente magari non vado d'accordo per niente sull'infinità di altri argomenti però è quindi una risposta proprio di retta beh che da anni gli vado dicendo in tutte le assemblee questo loro dicono che invece non esiste di poter lavorare insieme su un obiettivo comune se non si va d'accordo con una certa visione del mondo che secondo loro vuol dire essere contro l'America contro Israele cioè delle cose assurde che veramente dividono il mondo in buoni e cattivi perché poi non si capisce cosa vuol dire essere contro l'America oppure l'America l'America è grande è piena di persone è piena di... cioè è una cosa si capisce che è una cosa delirante e che è anche un po' una scusante in qualche modo perché nessuno che abbia un minimo di razionalità può veramente credere che sia per questo evidentemente c'è una... certamente c'è una convenzione di esclusione nei confronti dei radicali da parte delle altre forze politiche questo è in dubbio sicuramente devo dire che lo stesso atteggiamento hanno avuto i radicali nei miei confronti escludendomi dalla conferenza stampa però si sa che un gruppo questo lo scrivevo stamattina su Facebook ma è una verità sociologica perché la sociologia come tutte le scienze umane ha anche delle regole anche se non sembra possibile ma ci sono delle regole anche molto esatte che funzionano sempre nello stesso modo quando un gruppo è molto attaccato dal di fuori e non si sente difeso e si sente o è perseguitato in qualche maniera ed è marginato mette poi in campo al suo interno le stesse dinamiche che lamenta dall'esterno e quindi tutto va come deve andare alla fine tornando un attimino allo scopo insomma finale che è appunto avrire il dibattito di riuscita ad arrivare appunto alla legalizzazione non liberalizzazione ma legalizzazione per lo meno dei droghe leggere e questo tipo di atteggiamento esclude anche quello che poi in qualche modo ho avuto anche percezione sicuramente anche tu cioè la presenza di un antiproibizionismo che non sia riferibile ad ambienti di sinistra quindi a ambienti libertari anche di destra dei droghe radicali secondo me all'interno delle forze antiproibizioniste italiane quello che io ho portato sempre alla loro attenzione non è soltanto il discorso di lavorare insieme su un obiettivo comune è la non violenza che è una parte fondante del movimento radicale perché io temo molto che invece questo tipo di manifestazioni possa facilmente degenerare perché sicuramente ci saranno provocatori sicuramente come in tutte le manifestazioni poi dell'estrema sinistra sicuramente si infiltreranno persone che vogliono fare confusione e creare conflitto per cui rischia poi di degenerare completamente in una solita lotta fra ragazzi e polizia queste cose veramente squallide e fuorvianti quindi quello che io ho sempre cercato di portare al loro interno è stato proprio il discorso di lavorare insieme su obiettivi comuni ma anche quello di riuscire a organizzare delle azioni che avessero la connotazione non violenta il che non è facilissimo perché il mondo antiproibizionista è un mondo di ragazzi spesso anche di ragazzi molto indignati e molto arrabbiati spesso anche ha ragione perché purtroppo di episodi negativi ce ne sono stati tantissimi quante volte è successo che un ragazzo perché trovato con della droga o non droga o quello che si vuole o perché sospettato è stato riempito di botte e poi si è giustificato questo dicendo che era perché il ragazzo era drogato cioè come se uno che si droga o che assume sostanze per quel motivo perdesse ogni diritto quindi è un mondo che è molto ribolle molto al suo interno spesso queste manifestazioni poi si concentrano su urli insulti alla polizia molto facilmente si può poi andare a delle degenerazioni io spero che questo non accada però quello che ho sempre cercato di portare al loro interno è stato proprio il discorso della non violenza ed è un peccato che loro non abbiano accettato in questa occasione di coinvolgermi e di essere insieme in questa manifestazione quindi tu neanche insomma a titolo personale andresti no a questo punto no sinceramente no io gli amici che ho lì li posso vedere ci posso comunicare anche al di fuori di lì ti dico se devo andare a fare numeri in più perché qualche politico si possa vantare al microfono di tutta la gente che c'è e beh tutta la gente che c'è ma non certo sulle spalle mie questo no assolutamente siccome vedo questo rischio perché poi chiaramente è un argomento che ora tira va di moda e quindi anche persone che fino a tre mesi fa nemmeno ci pensavano adesso tutti sono diventati antipredizionisti come ne ha parlato il primo tutti a valanga dietro e persone che magari fino adesso sono state anche molto zitte e hanno ostacolato anche i radicali nel corso del tempo in Parlamento quando i radicali stati mi ricordo quando si era in Parlamento con la rosa nel pugno almeno dai discorsi di Donatella Poretti che mi riferiva a che spesso le trova lo stracismo proprio nelle forze dell'estrima sinistra con le sue proposte di legge con il suo lavoro che lei faceva parlamentare proprio su questo argomento mi ha trovato non una contrarietà manifesta ma uno stracismo strisciante proprio da parte di queste forze qui quindi un atteggiamento anche molto ambiguo per tanti aspetti comunque sicuramente tutte queste beghe squallide interne al mondo italiano e al mondo radicale non credo che riescano comunque a fermare quello che è un movimento e mai mondiale molto affermato molto forte che certamente parte dalla cannabis perché tutto deve essere graduale un cambiamento dopo 50 anni di guerra della droga certamente l'uscita deve essere graduale l'inizio è questo e non credo che nessuno potrà fermarla bene bene con questo diciamo quasi vaticinio e con questo auspicio ringraziamo Greta Sterzi su Libri TV per leggere euforia che questa volta l'ho intervistata io sono stato in qualche modo una carta da parati parlante e la vedremo presto sugli schemi ve la faremo vedere anche a voi e speriamo che si anche sviluppi un certo dibattito sì 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 sicuramente vedrai che il dibattito poi ci sarà perché comunque la sentenza è attesa per il 12 e ha la sua importanza perché se in alcuni punti scardinerà la fine giovanardi certamente che è importante questo è un inizio non è che un inizio c'è tutto un combattimento da fare che ancora sarà certamente lungo non è con un giorno una manifestazione che si risolve questo problema però la manifestazione e poi la sentenza aspettiamo la sentenza che ci dice poi la commenteremo insieme e avanti coraggio e avanti grazie grazie